Matteo Salvini e il suo governo continua con la propaganda sulla pelle dei più deboli, degli indifesi, dei marginali, dei migranti che fuggono da guerra fame e disperazione. Oggi è il turno di 66 persone su una barca della Guardia Costiera. Anche alla Guardia Costiera si impedisce di entrare in porto, o almeno non si indica rapidamente un porto sicuro. E su questo viene addirittura convocato un vertice di maggioranza. Conte, se è ancora in carica, se è ancora in grado di parlare, dica qualcosa per chiudere questa sceneggiata e riportare questo Paese in una condizione di civiltà che sta progressivamente e quotidianamente perdendo.